Eccoci qua, eccoci qua, stavo guardando le statistiche relative agli expected goals, cioè i gol attesi. Questa partita mi pare siamo a 2.34, quindi potevamo segnare mezzo gol in più. Vorrei ricordarvi quanto belli erano i tempi, ricorderete, quando partite come queste finivano 1-0 e la risolvevi un po' tirata per la giacchetta, rischiavi di prendere gol anche alla fine e insomma uscivi metaforicamente dal terreno di gioco con quella sensazione un po' di fastidio. Ecco, come cantavano i Take That, mai dimenticarsi da dove si arriva. Questo deve essere un monitor per i nostri ragazzi, o come dicevo il mio ex collega, un monitor, per il futuro, per non incappare più in partite come quella di domenica scorsa. Mi pare che la linea si sia ripresa, mi pare che abbiamo recuperato mentalmente, abbiamo recuperato la nostra condizione di squadra sul pezzo. Oggi non è che fosse un test particolarmente probante, mi scuseranno eventuali amici della Sera Unitana all'ascolto, ma insomma veramente pochissima cosa, pochissima cosa. Il nostro avversario di oggi ha mostrato dei limiti tremendi per la categoria, veramente. Una squadra in grande difficoltà, con alcuni giocatori senza offesa, ma veramente impresentabili. Penso a Simi, io non so l'anno scorso come abbia potuto fare tutti quei gol, poi in realtà Junior Messias ci ha messo una grande mano, ma quest'anno è veramente irriconoscibile. Oggi ha sbagliato delle cose macroscopiche, veramente. E quindi, diciamo, partita vinta da grande squadra, possiamo dirlo. Entrati in campo, 18 minuti, 2 a 0. Dopodiché abbiamo fatto una partita che direi anche non è che lascia molto spazio al commento, nel senso che dovevamo vincere mettendo subito al sicuro il risultato, l'abbiamo fatto. L'unico dispiacere di oggi... beh, due, devo dire. Due dispiacere di prima, non aver fatto più gol. Ma, come diceva il dottor Brown, chi se ne frega. Il secondo è naturalmente l'infortunio di Pellegri. Pensavo che oggi potesse essere la sua partita, potesse essere una buona occasione per dimostrare, insomma, di valere il minutaggio che pare abbia chiesto. E invece, evidentemente, questa fragilità strutturale di questo ragazzo continua a perseguitarlo e credo che sarà una costante nella sua carriera. Non so come potrà evolversi, però è veramente una beffa che un giocatore che avrebbe potuto fare delle cose importanti, o comunque, diciamo, una carriera di un certo tipo si stia perdendo a causa dei guai fisici. Succede, succede. Qualche volta il corpo non riesca a strutturarsi e non riesca a respingere, diciamo, il logorio della vita moderna. Mi scuserete, adesso partono le campane delle 5, ero in sottofondo e quindi mi sono fatto anche il sottofondo musicale ecumenico. Per quel che riguarda noi, intanto, come dicevamo ieri, abbiamo fatto due gol partendo dagli esterni. Quindi la Salernitana sapevamo che soffriva gli attacchi sui lati e da lì sono arrivati due gol, il primo con Leao che è andato via e ha messo dentro una palla perché sì, e il secondo con Saleme Kerr dopo una azione molto molto bella in verticale con Brandias che mette il pallone per Saleme Kerr che sfatta finalmente la maledizione che lo vuole il giocatore poco efficace sottoporta. Ha segnato anche un bel gol, secondo me. Sicuramente molto bello nella costruzione ma bello anche nella finalizzazione. Poi abbiamo avuto tante occasioni, mi ricordo un bellissimo rilancio di Mignan per la testa di Krunic che è entrato al posto di Pellegri con poi l'azione che si sviluppa e che si tira fuori, che sì che ha avuto oggi tante possibilità di inserirsi, di avanzare perché ovviamente vista la pochezza dell'avversario non c'era di che difendere e quindi ha avuto modo di potersi proporre nell'area avversaria con una certa costanza e è andato vicino al gol in più di una circostanza. Abbiamo controllato senza grossi problemi, gli abbiamo concesso giusto un paio di tiri pochissimo pericolosi e poi anche nel secondo tempo abbiamo costruito delle azioni, Brian Dias ha sbagliato un gol anche abbastanza facile, abbiamo avuto l'ingresso di Junior Messias che ha sfiorato il gol con un sinistro a giro e ha tirato centralmente comunque la sua partita puntellata da due tiri in porta, importanti. Krunic, dicevo, è entrato benissimo, secondo me ha giocato molto bene Krunic oggi, veramente anche con dei numeri tecnici importanti e oggi abbiamo visto proprio questa cosa, abbiamo visto come la nostra squadra si abile a fraseggiare nel corto attraverso la nostra tecnica superiore chiaramente facilitata in maniera estrema dalla misura dell'avversario. Nient'altro da dire, abbiamo vinto una partita che dovevamo vincere, l'abbiamo vinta come dovevamo vincere, abbiamo potuto fare anche un po' di turnover, è uscito che sia a un certo punto, è uscito Teo, è uscito Leao, tutti i giocatori che torneranno indispensabili nella partita di martedì, si aprirà un pochino il tema del centravanti adesso perché di fatto siamo solo con Ibrahimovic, è chiaro che Leao potrebbe farlo ma sappiamo anche che è meglio che non lo faccia, a meno che non succedano cataclismi, ma visto che i cataclismi sono di casa a Milanello prepariamoci a qualsiasi cosa. Nel frattempo ci prepariamo a metterci in poltrona, seduti comodi comodi dal primo posto della classifica e a guardare che cosa fa l'Inter sul campo della Roma e cosa fa stasera il Napoli con l'Atalanta, un turno che si sta delineando in maniera positiva per noi perché noi dovevamo fare i nostri tre punti visto che avevamo la partita più facile e adesso possiamo contare sulla perdita di punti da parte di una delle avversarie, diciamo 3 su 4 di quelle in lotta con noi per il primo posto giocano e quindi qualcuno perderà presumibilmente dei punti, solo l'Inter può restare al nostro passo se vince a Roma. Staremo a vedere, in ogni caso bene così, un bel sabato tranquillo, sabato italiano, sabato qualunque, sabato italiano, una buona preparazione in vista della partita di martedì. Vi ricordo gli appuntamenti domani nel canale Storie di Pallone, andremo in speciale su Santillana, consiglio di non perderlo perché secondo me è interessante, poi ci sentiamo lunedì con la compagnia della live che la prossima settimana sarà in versione estesa, nel senso che andremo in onda sia lunedì alle 12.55 sia martedì sera dopo la partita, quindi intorno alle 23 più o meno, 23.05, ci sarà la puntata della compagnia della live per l'ultima giornata del girone di Champions League. Buon sabato a tutti, buona serata.